Bentornato guerriero, abbiamo visto le SMG, abbiamo visto gli AR, oggi andiamo a scoprire quali sono gli LMG, le Light Machine Gun più forti, più violente e più letali su Warzone Season 2 Reloaded. Andiamo a scoprirle, prima di cominciare però ricordatevi di lasciare un like e iscriverti a questo canale, se vuoi rimanere ragionando su tutte le news, dell'arrivo al mondo di Call of Duty, degli FPS, delle impostazioni grafiche per migliorare i tuoi FPS in game, questo è il canale al quale devi rimanere iscritto. Andiamo a bomba a vedere le LMG più violente di questa Season 2 Reloaded, let's go! Ed eccoci qui su World of Rank dove possiamo vedere i pick ratio degli LMG, li abbiamo messi in ordine e quindi abbiamo in prima posizione il brand di Vanguard, DP27 di Vanguard, PKM, MG42, Bruen MK9, RPD, FIN LMG che potrebbe dare delle sorprese, Stoner 63, MG82, M91 e si va avanti così. Ovviamente non sono piccatissimi perché l'MG non è la prima arma alla quale si pensa quando si costruisce un loadout ma queste armi potrebbero riservarvi delle sorprese. Andiamo a vedere se veramente sono forti come si pensa. Guardiamo su True Game Data effettivamente che cosa fanno i nostri LMG messi a confronto con le migliori build attualmente disponibili su Warzone Season 2 Reloaded. Allora abbiamo inserito Bren, DP27, il PKM, l'MG42, il Bruen MK9, l'RPD, il FIN, lo Stoner, il Type 11 e l'SA87 di Modern Warfare. Una mia aggiunta personale non è selezionata da nessuno ma è veramente letale. Vi faccio vedere infatti la chart, quella potete vedere insieme a me, il primo in assoluto per Time to Kill senza aggiungere una fondamentale opzione che è quella del tempo di puntamento che aggiungiamo fra pochi secondi. Il FIN si posiziona in prima posizione e potete vedere un Time to Kill eccezionale. arriva fino a 44 metri con 604 millisecondi di Time to Kill, segue l'SA87 fino a 63 metri con 655 millisecondi. Ovviamente consideriamo sempre 250 di salute, colpi al petto per avere un Time to Kill medio e veramente sono Time to Kill devastanti che fanno veramente tanto male soprattutto perché c'è un caricatore enorme dietro queste armi. Poi abbiamo l'MG-42 che sembra che spari i coriandoli ma si posiziona in terza posizione, abbiamo poi il PKM di Modern Warfare che fa malissimo, successivamente abbiamo il DP-27, abbiamo anche lo Stoner che come potete vedere questa linea che si vede a malapena sullo sfondo nero, però comunque si posiziona in ottima posizione sulla linea dei 0,65 millisecondi. Quindi veramente tutte quante queste armi hanno dei Time to Kill eccezionali. Seguiamo poi con il Bren che si posiziona nel middle of the pack, quindi nel mezzo della nostra chart. Abbiamo l'RPD che si posiziona successivamente dopo, abbiamo il Bruen MK9 che comunque fa il suo sporco lavoro, 0,70 millisecondi fino a 35 metri, veramente tanta roba. Se vi dovesse capitare fra le mani è un ottimo pick e il Type-11 che è mesto tomo-tomo se ne sta lì in alto ed è veramente uno scarsissimo pick da prendere. Facciamo una piccola aggiunta come vi dicevo, non lo sprint to fire questa volta per l'SMG, ma aggiungiamo la percentuale di aim downside, di tempo di puntamento. Andiamo a mettere il 100% del tempo di puntamento perché noi un LMG andiamo a puntare nel momento in cui individuiamo l'obiettivo, però tante volte siamo già in posizione, stiamo già scrutando l'aria. Quindi vi faccio vedere le due picture, una quando siamo già in puntamento il time to kill è veramente bassissimo, ma se dovessimo andare in puntamento nel momento in cui individuiamo l'obiettivo, questa è la situazione. Il fin sale ovviamente come time to kill a un secondo il tempo di time to kill, ma il fin rimane sempre il migliore sulla piazza. Dopodiché abbiamo il PKM, PKM di Modern Warfare, vi farò vedere le build successivamente. Abbiamo l'MG42, abbiamo tutti quanti quelli che abbiamo nominato prima, RPD, l'SA87, l'RPD ovviamente che migliora tantissimo. Abbiamo il DP27, il Type 11 che migliora parecchio per via della percentuale di time to kill. Ma vediamo schizzare altissimo il Bren che da middle of the pack, dopo il nerf, perché prima era veramente super mega sbroccato, prima del nerf, adesso diciamo che si posiziona, se individuiamo un obiettivo, è il più lento ad andare in mira e tirare giù l'obiettivo con 250 di salute e con tutto quanto quello che abbiamo detto prima. Ovviamente se andiamo ad inserire nella Vanguard Royale tutto quanto quello che abbiamo detto fino adesso, andiamo a vedere che sempre il fin si posiziona in prima posizione. Dopodiché abbiamo l'MG82, abbiamo il PKM che comunque sia, stiamo parlando di scarti di pochissimi millisecondi, quindi sono validissime opzioni tutte quante quelle che vi stiamo nominando. L'RPD, abbiamo il Bruen e abbiamo ancora l'SA87, c'è ancora il Bren che si riposiziona nel mezzo della sezione, quindi ritorna a essere molto molto viabile. Comunque sia, queste opzioni che abbiamo visto insieme, anche nella versione Vanguard Royale, quindi nella Battle Royale normale che è stata creata adesso, fanno veramente molto male. Andiamo a vedere le build. Infine lo troviamo in questa configurazione, volata, silenziatore monoblocco, la canna XRK lunga inversa, laser tattico, ottica VLK, caricatore 100 colpi, nato 556, semplicemente devastante. L'SA87 di Modern Warfare, lento e devastante in questa configurazione con volata, silenziatore monoblocco, la canna 25.4 Factory, ottica VLK 3x, sotto canna calcio anteriore da comando e caricatore da 60 colpi. Il violentissimo Bren nella configurazione con volata, silenziatore MX, la canna, la Queen 775 mm, scettro, ottica 3.6x, mirino telescopico, il calcio, il Queen model 11BH, sotto canna, fermo mano, caricatore da 40 colpi, 6.5 Sakura, munizioni ovviamente allungate, impugnatura polimeri e abbiamo come specialità numero 1 presa salda e specialità numero 2 carico massimo. Il DP27 è un laser e in questa configurazione con volata, silenziatore MX, la canna, la covalesca IS 180 mm, ottica, mirino telescopico 3.6x, calcio, empress, VZV, sotto canna, ferma mano, M1941, il caricatore da 105 colpi, 7.62x54 mm, munizioni allungate, poi abbiamo impugnatura in polimeri, specialità 1, flemma, specialità 2, carico massimo. Il Brunen MK9 fa ancora malissimo e in questa configurazione che è quella che ci ricordiamo nel passato ha volata, silenziatore monoblocco, canna, lunga, 26.8 Summit, ottica, VLK 3x per arrivare lontanissimo, sotto canna, calcio anteriore da commando, caricatore da 60 colpi per essere veloci e letali. Quest'arma è stata il terrore di Verdansk e adesso è tornato ad essere il terrore di Rebert e di Caldera. Lo vediamo nella configurazione con volata, silenziatore monoblocco, la canna pesante 25.9, laser tattico per essere veloce e andare in puntamento molto più velocemente, ottica VLK 3x, impugnatura ergonomica per avere una velocità di puntamento migliorata e zero rinculo. MG42 è un ratio di fuoco semplicemente impressionante, con volata, silenziatore MX, la canna VDD 890 mm 32, ottica, slate M38 2x, calcio VDD 64M, sotto canna M1930 straife angolata, caricatore 125 colpi, 6.5 Sakura, munizioni allungate, dopo di che abbiamo impugnature in polimeri, specialità numero 1 presa salda, specialità numero 2 carico massimo. Il Type 11 si fa valere in battaglia e in questa configurazione che è la migliore disponibile al momento lo vediamo con volata, silenziatore MX, la canna Sakura 487 mm coperta, l'ottica, l'M38 Slate 2x, il calcio, il Warubaki Type 33, sotto canna, calcio anteriore Carver, il caricatore da 90, 6.5 Sakura, proiettili, munizioni allungate, abbiamo l'impugnatura in polimeri, specialità numero 1 preparazione, specialità numero 2 carico massimo. Lo Stoner di Cold War lo vediamo in questa configurazione con volata, silenziatore agency, la canna Task Force 21.8 pollici, Axial Arm 3x come ottica, impugnatura sotto canna Field Agent Clip e caricatore rapido da 150 colpi. L'RPD è uno degli LMG più veloci che abbiamo nel nostro senale, lo vediamo in questa configurazione con volata, soppressore gru, la canna al Task Force 20.3 pollici, laser, riflettore Tiger Team che ci permette di spostarci velocemente sulla mappa, ottica, Axial Arm 3x per avere una visibilità estrema, impugnatura sotto canna Space Nuts Grip. Guerriero, questi erano i migliori LMG disponibili al momento su Warzone Season 2 Reloaded, spero di averti aiutato, di averti chiarito le idee, prova a inserire uno di queste LMG nei tuoi loadout e fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi, ti aspetto sul mio canale Twitch, al canale Twitch TV slash BitLocker per poter giocare insieme, se il video ti è stato utile lascia un like e scriviti, passami a trovare come detto prima, per il momento questo è tutto, keep fighting, alla prossima!